Buongiorno Susan good morning bello sapete io mi sveglio ogni giorno contento senza sveglia con la luce del sole e sapete cosa faccio come prima cosa la mattina no anzi seconda cosa una cosa miracolosa per alzare il sistema immunitario ora andiamo a vedere bene allora la seconda cosa che faccio la mattina e bere un bel succo di limone con un po di acqua tiepida questa mi aveva insegnato la mia bisnonna margaret e che lei la beve ogni giorno era bellissima bellissima il limone è un frutto miracoloso lo dovete sapere e tiro fuori un po questi semini qua così la spremo tiro fuori tutto il succo molto succo c'è molto succo dentro il limone molto 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 bene poi la adesso qua dentro ci metto un po di acqua tiepida dentro e questa fa un effetto che aiuta la pancia fa stare molto bene la pancia è un cocco è una bella coccola la mattina il limone certo è un po aspro però di uno come dire io l'amo l'amo tantissimo bene il limone buonissimo il limone e il limone voglio dirvi una cosa è un frutto che viene originalmente dall'india della cina e poi circa mille anni fa è arrivato in sicilia è diventato un frutto del mediterraneo abbiamo visto nell'altra puntata che abbiamo troppo estratto l'olio essenziale della buccia buonissimo e poi se tagliamo così possiamo usare il limone per pulire perché disinfetta disinfetta lascia le tracce di il limone dappertutto così bellissimo bellissimo possiamo fare anche il lavello possiamo fare i rubinetti possiamo pulire dappertutto e dopo puliamo con un panno pulito si asciuga tutto e non c'è bisogno di quelle cose spruzzanti di chimiconi in bottiglia di plastica basta un mezzo di limone una meraviglia l'effetto c'è il beneficio del limone non è solo come l'acqua calda no? cioè il limone è acida c'è l'acido citrico acido ascorbico che è la vitamina c però nel corpo fa un effetto alcalinizzante allora non lo so come funziona questa cosa qui così però lo so che i nostri corpi hanno bisogno di essere alcalinici e allora siamo felici siamo pieni di energia i nostri visi risplendono con la gioia allora fate come me e bevete un mezzo limone ogni mattina sputtare voi i semi